Ciao a tutti, signore e signori, sono Ronni, Rabboni e Polverici, e ora dirò il santo rosario cristiano, come lo dico io. Così sia, così sia, così sia, pare nostro che sia nusciati, sia santificato il tuo nome, venga tuo regno, se vada la tua volontà, come un cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, manipolaci al male, amore. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo Gesù, Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della della nostra morte, amore. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Rimirateci, o Maria, con qualche pietà, soccorreteci, o Regina, con la vostra carità, e degnatevi in particio a vostra santa benedizione. O Maria, madre d'amore, benedetta del cielo e loro nel nostro cuore. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, giumenti e pengenti, questa valle di lacrime. O su dunque, avvocato nostro, rivolge a noi quei tre misericordiosi e mostraci dopo questo segno Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, donce Vergine Maria. Credo in un solo Dio, Padre Animpotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza escesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crucifisso per noi sottoponso Pilato. Morì fosapolto il terzo giorno e risuscitato secondo le scritture. È salita al cielo e si è dalla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti. Il suo regno non ora, infine. Credo nello Spirito Santo che il Signore della vita e procedere al Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato gli ha parlato per mezzo ai profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica dopo storica, professo un suo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita al mondo che verrà. Amén. Il Padre nostro che sei nel Cielo e sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno e salvata la Tua volontà come un cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ti rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre dall'azione, non mi riuscire al mare. Amén. Così sia, così sia, così sia. Angelo custode, per te e per la schietta degli angeli celesti e per voi i quattro angeli, arcangelo Michele che sei a mia destra, arcangelo Gabriele che sei a mia sinistra, arcangelo Uriel che sei dentro a me e arcangelo Raffaele che sei a mia spalla. E alla schietta direi gli arcangeli celesti. Così sia, così sia, così sia. Angelo di Dio che sei mi custode, illumina, costruisci i regi e i governamenti che ti fai affidato dalla pietra celeste. Amén. Così sia, così sia, così sia. Per tutti coloro che sono devuti l'eterno riposo, dono al loro Signore, riprendi adesso la luce perpetua, riposano in pace. Amén. Così sia, così sia, così sia. Signore aiutaci. Così sia, così sia, così sia, così sia, così sia. Così sia, così sia, così sia, così sia, così sia.